Quella di Michele Mondella è stata una delle figure più importanti nella storia della canzone italiana. È stato un promotore, un ufficio stampa, un amico di moltissimi dei personaggi più importanti della canzone italiana. Dalla, più di tutti, Francesco De Gregori, Lucio Battisti, Antonio Venditti, Maralenco sarebbe veramente interminabile. Non c'è artista che abbia segnato la storia della canzone a non dover qualcosa a Michele Mondella. Era umanamente un personaggio straordinario e culturalmente un personaggio inarrivabile. Conosceva la stampa, conosceva la musica, conosceva l'arte, conosceva la parola. Sapeva come mettere insieme tutto questo e risolvere i problemi degli artisti come quelli di noi giornalisti che andavamo da lui a chiedere informazioni, notizie e un aiuto. Michele Mondella è stato un grande amico per noi tutti e il dolore infinito della sua assenza non andrà via presto.